E' il giorno della rifinitura, ormai quel che è fatto è fatto, in Lega Pro si torna in campo e nel Gironi C c'è da perdere la testa, ma è come quest'anno il campionato di terza serie promette così tante scintille. Lecce, Foggia, Taranto, Catania e Casertana le piazze più calde, a contendere lo scettro anche quattro calabresi, due senior a Catanzaro e Cosenza e due ritrovate, Reggina e Vibonese. Le ultime sordiranno in trasferta, sul campo dell'Acragas e Rosso-Blu, su quello del Fondi gli Amaranto. Le prime due invece apriranno con il Bottola contesa affrontandosi al Ceravolo nel derby di Calabria numero 51 nella storia dei due club, la stra-regionale più sentita e quella più imprevedibile. Nello stadio di Tre Colli si affrontano due squadre reduce da un precampionato diverso, tranquillo quello Cosentino, confuso quello Catanzarese. Gelorossi ha la ricerca di un'identità, dopo l'addio di R l'arrivo di Spaderra. Il tecnico gelorosso ha fatto diverse prove in settimana, oggi l'allenamento è blindato, impossibile immaginare quindi l'undici di partenza. Di sicuro in avanti Giovinco è il punto fisso, con lui dovrebbe esserci Kunzi. Da valutare le condizioni di Carcione e Maita, ancora non al top. Buone notizie invece dall'infermeria per il Cosenza che recuperano extremist tedeschi e blondè, dati per spacciati d'inizio settimana. Punti fermi, Caccetta e Statella. Cavallaro, Capece e Criaco si giocano due maglie, unica assente Bachelet. Al Ceravolo ci saranno almeno 5.000 persone, per tutte. Fischio d'inizio fissato per domenica alle 16.30. Alessio a buon passo per la Cineus24.